Luigi Vitali nasce a Taranto 60 anni fa, si laurea in giurisprudenza all'Università degli Studi di Bari e diventa avvocato. Vitali entra in politica nel 1980, viene eletto per la prima volta consigliere comunale della città di Francavilla Fontana, nel Brindisino, nelle file del Movimento Sociale Italiano ed in seguito rieletto nel 1985. Nell'88 lascia il Consiglio Comunale e si dedica alla professione. Nel 1995 decide di tornare in politica sposando il progetto politico di Silvio Berlusconi e viene rieletto consigliere comunale carica che ricopre ininterrottamente. Nell'aprile 1996 viene eletto deputato al Parlamento Nazionale e riconfermato nel 2001, 2006 e 2008. Il governo Berlusconi nel dicembre 2004 lo nomina sottosegretario di Stato alla Giustizia. Nella quindicesima legislatura e vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati oltre che componente della Commissione bicamerale antimafia e componente del direttivo del gruppo parlamentare di Forza Italia. In questa stessa legislatura si distingue per presentare quello che verrà definito il condono tombale che riguarda la non punibilità per il reato di falso in bilancio. È presidente della delegazione parlamentare presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa oltre che componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del Comitato per la Legislazione e della Commissione Giustizionale per il Personale, membro del Consiglio Direttivo del PDL e alla Camera Vitali viene proposto nel 2014 quale componente laico del CSM in quota a Forza Italia ma ritira la sua candidatura per via dei dubbi sollevati dal PD perché è imputato per abuso d'ufficio a Brindisi, per lo scandalo sulle farmacie abusive e perché è ritenuto un relatore di legge a Personam. In Puglia Berlusconi lo nomina coordinatore regionale di Forza Italia in carico impegnativo in vista delle prossime regionali. Il compito si fa ancora più arduo per il commissario Vitali allorché l'ex ministro Salentino Fitto alza la testa e prova a rimescolare le carte. Il commissario Vitali tenta di fare da pacere, prova a cucire strappi che certo in vista delle prossime elezioni non fanno bene ad un partito, il popolo della libertà peraltro già in fase di cambiamento ma che soffre ancora di più per via delle beghe interne. La proposta del segretario Berlusconiano su mandato del Cavaliere è quella di ricandidare tutti i consiglieri uscenti con l'obiettivo di raggiungere una tregua con Raffaele Fitto proposta che viene rispedita al vittente. Ora dunque, chi accadrà?